di estratto della chiacchierata che trovate per esteso, ho fatto in tempo a tradurvela al volo naturalmente, sul New Statesman, sul sito online newstatesman.com, in prima pagina potete trovare la chiacchierata di Harry Lambert con Yanis Varoufakis, il quale dice ci sono cinque mesi per salvare la Grecia, altrimenti Grexit, ovvero uscita della Grecia dall'Euro, l'Eurogruppo è completamente controllato dalla Germania, la Grecia ha sprecato il referendum, dice Varoufakis, questo è il titolo perlomeno, la chiacchierata è un po' più lunga e il manifesto ne produce una versione accorciata, diciamo così, che è l'unica che posso offrire in questo momento, perché tempo per tradurre la chiacchierata dall'inglese non ce l'abbiamo avuto stamani. In ogni caso, dice Varoufakis, la conversazione è del 13 luglio, in pratica di ieri, aggiornata ieri, cosa dice Varoufakis? Le mie peggiori paure si sono confermate, ma la situazione si è rivelata, perfino peggiore delle mie peggiori paure. Nell'Eurogruppo ho visto il più totale rifiuto a discutere di argomenti economici, potevo cantare l'inno nazionale svedese e per loro era uguale, è stato allucinante, dice l'ex ministro delle finanze che ha lasciato il governo Tsipras subito dopo il referendum del 5 luglio. All'inizio si mostravano comprensivi a livello personale, anche nel Fondo Monetario Internazionale, ma poi ciascuno si trincerava dietro al copione ufficiale. Non avevamo un'alternativa, questa però è la grave ammissione, perché uno che non ha un'alternativa cosa va a trattare in un club del genere? O meglio, le cose sono due, o non avevi un'alternativa perché sei un fesso, o comunque non avevi un'alternativa perché non l'hai mai neanche considerata. Cioè in ogni caso, ma del resto Tsipras l'ha fatto capire più volte, che non si discute l'Euro, non si discute l'Europa. Casomai andiamo a fare una brutta figura e a prenderlo in quel posto a beneficio di tutti i cittadini greci. Alla fine si è scoperto che era tragicamente così, da cui quel sorrisone di Tsipras con Angela Merkel, parecchie settimane, forse erano anche addirittura un paio di mesi fa, che già faceva preludere qualcosa di poco buono. In ogni caso, se non hai alternative non è una trattativa, se non hai un piano B, se non hai un'alternativa, specie in questione di questa complessità e importanza, è ben difficile che porti a casa qualcosa di buono. Però Varoufakis lo dice, non avevamo un'alternativa. Il nostro governo era stato eletto col mandato a negoziare, per cui il primo obiettivo era guadagnare il tempo e lo spazio per farlo, negoziare e raggiungere un accordo. Non abbiamo mai rovesciato il tavolo dei creditori, ma il negoziato è durato tanto perché i creditori non volevano negoziare, finché la liquidità è stata tagliata e siamo finiti in default o quasi verso il fondo monetario. Soltanto allora hanno fatto le loro proposte, tossiche e totalmente impraticabili, dice l'ex ministro delle finanze Yannis Varoufakis al NewStatesman.com. La tipica proposta che fai quando non vuoi un accordo. Questo è venuto dall'Eurogruppo. L'Eurogruppo non risponde a nessuno, non è codificato per legge, non ci sono i verbali delle sue riunioni, agisce solo in maniera riservata. Nessun cittadino sa cosa venga detto lì dentro e spesso sono scelte di vita o di morte. L'Eurogruppo è controllato in tutto e per tutto dalla Germania, dice Varoufakis. Il ministro delle finanze tedesco è il direttore dell'orchestra. Tutti si accordano a lui e ne seguono il ritmo. Il ministro francese emette rumori diversi da quelli tedeschi, rumori molto sottili. Ha usato sempre un linguaggio molto giudizioso per non entrare in contrasto col collega tedesco. E qui Varoufakis sta parlando di Emmanuel Macron, ministro dell'economia francese. Non suonava lo stesso identico spartito di quello tedesco, ma non si è mai opposto il ministro francese. E alla fine la Francia ha sempre accettato le conclusioni del dottor Schäuble. Siamo abbiamo capito che l'uomo nero è lui, Schäuble. Domanda, l'intervistatore Harry Lambert, dopo la pubblicità. Quello che il manifesto mette in pagina come una specie di riassunto, o meglio di versione accorciata, della chiacchierata di Harry Lambert sul newstatement.com con l'ex ministro delle finanze greco, Yanis Varoufakis. Allora, il collega Schäuble è il mare assoluto in sostanza e il collega francese, ovvero il ministro dell'economia francese Macron, alla fine si è sottomesso completamente a Schäuble. La Francia ha semplicemente accettato le conclusioni del dottor Schäuble. Quanto al fatto che dopo Siriza l'unica alternativa in Europa saranno forze come alba dorata in Grecia, che è la questione che pone l'intervistatore. Nulla è determinato, risponde Varoufakis. Siriza oggi è una forza dominante. Se usciamo da questo disastro uniti e gestiamo un'uscita della Grecia dall'euro, Grexit, in modo appropriato, allora ci sarà un'alternativa. Ma non sono sicuro che abbiamo tutte le competenze tecniche e finanziarie per gestire l'uscita della Grecia dall'euro. Speriamo che ci aiutino anche dall'estero, dice Varoufakis, che però a questo punto apre alla possibilità che mancava prima. Non avevamo il piano B, non avevamo un'alternativa. Adesso l'alternativa c'è, dice Varoufakis, ed è uscire dall'euro, sostanzialmente. Pensavi alla Grexit fin dal primo giorno? Sì, certo. E qui Varoufakis prende le distanze abissalmente rispetto al Premier Tsipras. Hai fatto preparativi per l'uscita dall'euro e qui torniamo nello sconforto, perché allora non avevamo l'alternativa. Il Premier non ha mai pensato, Tsipras, di uscire dall'euro, di porre la questione in termini radicali? Mai. È europeista convinto, come ci informa sempre sul manifesto, il suo biografo, il giornalista greco Dimitri degli Olanes, oggi autore di un altro articolo. Quindi Tsipras è un europeista, è un eurista, è convinto che non bisogna uscire dall'euro. Io invece, dice il suo ex ministro delle finanze, Varoufakis, ci avevo pensato e come? All'uscita della Grecia dall'euro. Ma hai fatto preparativi? Cioè avevi l'alternativa concreta? Sì e no, risponde Varoufakis. Avevamo un piccolo gruppo, un gabinetto di guerra al Ministero fatto da circa cinque persone. Ci siamo preparati sulla carta, in teoria, ma una cosa è parlarne tra cinque persone, un'altra è preparare un'intera nazione. E qui però uno dice, ma amico mio, te eri il ministro delle finanze, fai parte di un governo guidato da un primo ministro del tuo stesso partito, a te completamente omogeneo, mi siete presentati come i gemelli del gol Pulici e Graziani, dopodiché mi vieni a raccontare che ci abbiamo pensato sì e no. Ne discutevamo in cinque probabilmente dell'uscita dall'euro, che è la vera alternativa. Ci siamo preparati sulla carta, in teoria, ma una cosa è parlarne tra cinque persone e un'altra preparare una nazione. Preparare una nazione o comunque pensare al bene della nazione, rivolgersi a una nazione è il compito di un governo e di un ministro. O no? Questi ne parlavano in cinque, nel gabinetto privato del professor Varoufakis, che non è mai arrivato. Serviva un ordine esecutivo per farlo, cioè per mettere in pratica i passi per uscire dall'euro, ma non è mai arrivato. E da chi doveva arrivare? Io pensavo che non dovessimo essere noi a decidere per il Grexit, cioè per l'uscita della Grecia dall'euro. Allora a questo punto veramente uno si domanda. Adesso, Schäuble sarà l'uomo nero, però se voi avete di fronte Schäuble e Varoufakis, di chi vi fidate? Detto proprio in maniera terra a terra. Perché uno che mi viene a fare un ragionamento del genere, secondo me è peggio, non di qualsiasi Schäuble, mi verrebbe sempre con rispetto per il ministro tedesco, ma è peggio di qualsiasi caricatura in negativo da uomo nero che possa essere fatta di un ministro delle finanze tedesco, qualsiasi, a prescindere da Schäuble. Quindi se la Germania è il paese nero, è quello che diciamo è il colpevole numero uno, lo dicono perfino del benedetto, e tutti lo dicono adesso, se leggete i giornali di oggi. Ma uno che mi ragiona così, fa il ministro delle finanze di un paese come la Grecia, che è nelle condizioni, per carità che tutti sappiamo, ma nessuno ti ha detto di fare il ministro delle finanze, di presentarti alle elezioni e di fare il salvatore della patria con il giubbotto di pelle, la motocicletta e andando in giro come i gemelli del gol con Tsipras. Benissimo, uno fa il ministro delle finanze, finanze e dell'economia di un paese come la Grecia in un momento come questo e cosa fa? Avevamo un piccolo gruppo, un gabinetto di guerra al ministero fatto da cinque persone. Ci siamo preparati sulla carta, in teoria, ma una cosa è parlarne in cinque, l'altra è preparare una nazione. Serviva un ordine esecutivo per farlo, che non è mai arrivato, perché qui c'è la dichiarazione tra le più stupefacenti del giorno, perché uno si domanda, ma chi è che doveva darti l'ordine di uscire dall'euro? Adesso non prendiamoci in giro, perché Varoufakis non è nato ieri pomeriggio sotto una foglia di verza greca. Varoufakis è un professore di economia e se lo capiamo noi che siamo dei semplici cucù padani, lombardi, piemontesi e veneti, lo possiamo capire tutti che non è che deve arrivare l'ordine da qualcuno per lasciare l'euro o per porre il problema dell'uscita della Grecia dall'euro. Serviva un ordine esecutivo per farlo, che non è mai arrivato perché io pensavo che non dovessimo essere noi a decidere per il Grexit. E allora cosa si è andato a fare il ministro delle finanze di un governo greco cianciando di sovranità nazionale, di dignità e compagnia bella? La mia visione espressa nel governo era che se avessero chiuso le banche, cosa che io considero tuttora una mossa aggressiva di incredibile potenza, avremmo dovuto rispondere in modo altrettanto aggressivo, anche se senza passare il punto di non rottura. Cioè arrampicarsi sui vetri è una metafora che è troppo modesta per descrivere secondo me le parole di Barufakis. Le mie raccomandazioni a rispondere in modo energico in ogni caso sono state sconfitte in un voto. Su sei persone abbiamo votato a favore soltanto in due, qui nel gabinetto del professor Barufakis. Poi c'è stato il referendum che ci ha dato una forza incredibile, prosegue Barufakis, che poteva anche giustificare una reazione dura contro la banca centrale europea. Ma quella stessa notte, mentre il popolo faceva esplodere il suo no, il governo ha deciso di non adottare l'approccio energico. Al contrario il referendum doveva portarci a fare maggiori concessioni alle controparti. L'incontro del primo ministro con i partiti di opposizione aveva stabilito già che qualunque cosa fosse successa, qualunque cosa l'altra parte ci avesse fatto, noi non avremmo mai risposto in modo da sfidarli e quindi essenzialmente avremmo iniziato a seguirli senza più negoziare. Niente mi stupisce più in questi giorni, conclude Barufakis, nemmeno le possibili dimissioni di Tsipras. La nostra eurozona è un luogo estremamente inospitale per le persone integre e oneste, dice Barufakis. E a dargli il credito della buona fede, cosa molto ma molto difficile, anche ciula, anche deficienti diciamo così, deficienti nel senso di deficere. Ti manca qualcosa, ma non poco, ti manca parecchio. Prendendo per buona il suo discorso. Non mi stupirebbe nemmeno se accettasse Tsipras un accordo molto brutto perché so che lo farebbe per il senso di responsabilità che prova verso il popolo e la gente. Perché non vuole che la nostra nazione diventi un paese fallito. Ma io non tradisco le mie opinioni, secondo cui questo paese deve smetterla di chiedere prestiti e aumentare il debito pensando di risolvere i propri problemi. Non ha funzionato, non può funzionare. Così parlò Barufakis e bene o male abbiamo capito un po' di cose, o no, da questa serie di frasi, alcune delle quali hanno francamente dell'incredibile. Cioè eravamo là, però non avevamo il piano alternativo. Non c'era il piano B. Poi a un certo punto io ce l'avevo, ma non ce l'aveva il premier. Anzi no, ce l'avevamo in cinque. Un piccolo gabinetto di guerra di cinque persone. Ci siamo preparati sulla carta, in teoria, ma poi nessuno ci ha ordinato di uscire dall'euro e quindi noi pensavamo che ci volesse un ordine, un ordine esecutivo per farlo. Io pensavo che non dovessimo essere noi a decidere per l'uscita dall'euro, dice il ministro delle finanze greco. Allora mettetevi nei panni, io adesso mi viene così per paradosso di mettermi nei panni del dottor Schäuble, come lo chiama il professor Barufakis. Nei panni del dottor Schäuble a uno così che cosa gli racconti? Cosa gli dici? Ho la sensazione che il dottor Schäuble sia stato perfino un gran signore.